Le due le torri gemelle sono state raffi al cuoco, sono le immagini di un bombardamento, le immagini di guerra, si trolla uno dei simboli più importanti dell'economia e della civiltà degli Stati Uniti d'America. Le due le torri gemelle sono state raffi al cuoco, sono le immagini di un bombardamento, il bombardamento, le immagini di un bombardamento, la maggio più importanti dell'economia e della centrale della fisioterapeutica, il bombardamento è accelerating il bombardamento, ORIO! ORIO E LA POLICIA!